Ci tengo però a fare alcune considerazioni finali perché la ricchezza di questo dibattito meriterebbe giorni di discussione, però alcune considerazioni anche per dare un assist alle tante discussioni che ci saranno in questo camp vorrei farle. Parto da un presupposto che questo di un capitalismo malato, di un capitalismo che in realtà ancora si riproduce con forza. Io credo modestamente una cosa, che questo virus ha messo in discussione quantomeno la linearità, l'idea di linearità con cui si muovè, si è mostro storicamente lo sviluppo capitalista, un concetto che probabilmente ci accompagnava addirittura dal positivismo. Però è anche vero che, lo dicevo nell'introduzione, viviamo comunque un tempo che è un tempo di paradossi. L'immagine che dava l'ele di una cartografia in cui si sovrappone la linea del contagio, le aree di diffusione del contagio e quelle dello sfruttamento, sembrano veramente due cartine che sovrapponendole probabilmente i contorni nemmeno li vediamo. E aggiungo ovviamente oltre ai livelli, alle linee di sfruttamento, anche quelle di classe. Io credo che storicamente nessuna pandemia, cioè togliamoci dalla testa l'idea che le pandemie, i virus, questi eventi siano delle livelle. Io sono assolutamente contrario. Cito l'immagine manzoniana dei nobili che per fuggire alla peste da Milano nel 1629-30 si rifugiano nelle proprie ville in campagna, mentre il popolino continua a morire nelle case fatiscenti, nelle strade. Quest'immagine, se noi la trasponiamo, la leggiamo con quello che ci ha consegnato la cronaca, anche squallida di quest'estate, con Briatore, Berlusconi che si contagiano, che però vengono curati al San Raffaele, attenzione. Mentre negli Stati Uniti le vittime da Covid hanno un chiaro colore, hanno una chiara definizione razziale, hanno una chiara definizione di classe. Questo è una questione importante, non è un virus democratico, come scriveva, non ricordo chi, mi scuso per la figuraccia sul Corriere della Sera, credo Galli della Loggia sul Corriere della Sera, all'inizio, questo virus democratico perché colpisce tutti? No, è un virus di classe, perché è un elemento, come dicevamo, che si inserisce dentro il regime socio-ecologico. E allora il paradosso dov'è? E che è vero, vengono amplificate, cioè quantomeno è stata una cartina di tornasole attraverso cui noi leggiamo questo intreccio di diseguaglianze, questo intreccio di contraddizioni, leggiamo il fatto che non possiamo più parlare di una questione ecologica e ambientale che sia distaccata dalla questione sociale, dalla questione di classe, dalla questione di razza e di genere. Questa cosa ce la consegna in maniera chiara la pandemia. Ma dall'altro punto di vista si apre uno spazio di possibilità? Sì, ci crediamo, altrimenti non avremmo fatto un climate camp che metteva al centro la questione della sanità, della cura, la questione del reddito, oltre che l'ambizione di costruire realmente soggettivazione sul terreno della crisi ecologica. Credo che questo paradosso ci possa aiutare a leggere queste contraddizioni in funzione dello sviluppo del conflitto e dell'organizzazione, perché credo che questi due elementi in questo momento siano ancora più importanti. Tenere in mente una visione di lungo periodo un orizzonte con le dinamiche del conflitto, con l'apertura di spazi di conflitto credo che sia importante. Questo dibattito che abbiamo avuto oggi ci consegna chiaramente un quadro, i dibattiti che verranno nei giorni successivi lo amplificheranno, soprattutto noi guardiamo a quel meeting che realmente vuole aprire uno spazio politico di continuità, di elaborazione comune, di condivisione, di messa in comune delle pratiche della disobbedienza, delle pratiche del conflitto, ma vuole mettere anche in comune appunto un orizzonte collettivo di cambiamento dell'esistente. Ovviamente il meeting non può essere che un inizio, uno degli inizi, poi come diceva Wim Wenders il film inizia realmente quando si esce dal cinema. Grazie.